Gabriele Ferrari, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto davvero qui nel podcast del Posto delle Parole per farci incontrare, conoscere più da vicino la storia divertente, avventurosa e anche a tratti tragica, la storia che viene raccontata in questo libro intitolato Polvere e ossa, pubblicato dalla casa editrice Codice. Edward Drinker Coop e Othniel Charles Marsh, due paleontologi a caccia di dinosauri nel Far West. Ora io sfido, non dico chiunque, ma la maggior parte delle persone a dirmi, ad alzare la mano e dire io so chi sono queste due persone. Io non li conoscevo per niente, ma meno male che li ho conosciuti in questo libro che è un libro veramente di pura avventura, nel vero senso della parola. Gabriele Ferrari con la sua scrittura ci fa entrare, ci fa entrare per l'appunto in questa avventura, altro che la ricerca dell'oro nel Klondike. Gabriele Ferrari, leggo nel risvolto di copertina, è laureato in paleontologia, ma con una formazione parallela in cinema. Bella questa cosa però. Paleontologo insieme con l'esperienza di scrittura cinematografica. Come vengono coniugate queste due cose, Gabriele Ferrari? È una bella domanda ed è la domanda che mi faccio da quando ho iniziato a lavorare, sostanzialmente, nel senso che io sì, sono uno scienziato di formazione, non sono probabilmente un bravo scienziato da laboratorio, mi viene molto meglio scrivere le cose e raccontare le cose fatte da altri, per cui il mio primo distacco dalla ricerca pur andando sulla scrittura è stato questo, cioè fare il giornalista scientifico e raccontare, spero bene, cose interessanti fatte da gente più brava di me. La vita, diciamo, poi non voglio entrare nei dettagli, ma mi ha portato appunto a specializzarmi anche in cinema, a scrivere di cinema e io vado quindi sempre in cerca, diciamo, degli incontri tra questi due mondi, nel senso che la scienza soprattutto è una cosa di cui c'è bisogno di parlare, c'è bisogno che venga capita, che venga anche, diciamo, apprezzata e approcciata come se non fosse una cosa cattiva e difficile da lasciare solo agli specialisti. E quindi quando, diciamo, la cultura pop, l'intrattenimento o l'arte, se preferiamo chiamarla così, che forse è meglio, come può essere il cinema, riesce a raccontare in qualche modo la scienza e quindi ad avvicinare lo spettatore ignaro a un mondo che magari prima non avrebbe considerato, ecco, quello è, diciamo, l'ecosistema in cui mi piace muovermi e in cui mi muovo il più possibile. Tanto è vero che Jurassic Park per me è una sorta di bibbia di tutto quello che ho appena raccontato. Anche perché il libro si chiude e poi riprende anche in quarta ricopertina questa cosa del Jurassic Park, perché se Gabriele Ferrari ha fatto quello che ha fatto è perché ha visto Jurassic Park. Sì, posso confermare questa cosa, io volevo fare lo scienziato in generale. Jurassic Park è stata quella cosa che mi ha dato la spinta nella direzione giusta, cioè che bello scoprire com'era la vita su questa terra prima che ci fossimo noi. E ovviamente poi il film lo fa in chiusa in una confezione cinematografica di altissimo livello, è molto divertente e io voglio molto bene al film anche per quello, ovviamente. Però è un'ispirazione ed è quel tipo, dello stesso tipo di ispirazione che qui e là ho trovato anche nella storia di Marsh e Coop, che oltre a essere dei paleontologi secondo me sono stati anche più o meno coscientemente un po' dei pionieri della comunicazione della scienza e del trasformare certa scienza in qualcosa di popolare. sì, di popolare perché qui è raccontata la scienza, è raccontata l'avventura, la ricerca di fossili, ma è anche la narrazione di umanità che si incontrano e si scontrano e si scontrano e come si scontrano in questa storia. Ma adesso andiamo a incontrare una frase che Gabriele Ferrari ha messo in esergo. Sul palcoscenico c'è posto per un animale, uno solo. Tutti gli altri sono destinati a una notte eterna e senza nome. Uno dopo l'altro si immergeranno nel buio davanti alle luci del palco. Orsi che danzano, orsi che non danzano. Sempre bello incontrare la scrittura di Cormac McCarthy, in questo caso Meridiano di Sangue. Perché incontrarci con questa frase, degli orsi che danzano e orsi che non danzano sul palcoscenico? Perché io ho deciso da subito, perché purtroppo Cormac McCarthy è morto mentre stavo scrivendo questo libro e siccome lui è uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, Meridiano di Sangue è il suo libro che preferisco, ho deciso subito che in qualche modo l'avrei voluto omaggiare visto che lui poi ha spesso raccontato dei posti, dei luoghi, anche dei modi di vivere che più o meno racconto anche io nel mio libro in un altro modo e con tutto altro stile. Però insomma ci vuole del Cormac McCarthy. Io avevo una lunghissima lista di citazioni, però continente che stava ben civilizzato, quindi ha sostanzialmente un orizzonte ampissimo, ma alla fine stringi, stringi. È la storia dei due esseri umani che si sono conosciuti, non si sono piaciuti per motivi, tra l'altro con la scienza hanno pochissimo a che fare, hanno a che fare col fatto che appunto erano esseri umani che non andavano d'accordo e sono riusciti a trasformare questa cosa in una lotta durata quasi mezzo secolo per conquistarsi quel posto sul palcoscenico, per essere appunto non l'orso che non balla, ma l'unico, il protagonista, questi erano due che volevano essere protagonisti e non si può essere, volete essere migliore e chiaramente non puoi essere il migliore se c'è qualcun altro che è migliore quanto te. La famosa frase da film western, questa città è troppo piccola per noi due. Torniamo proprio con questa considerazione di questa città è troppo piccola per noi due, perché queste due persone che si sono ritrovati a bere, se non ricordo male, birre insieme e si sono per così dire piaciuti e poi la vita ti sposta agli interessi, ci sono sentimenti vari a cui fare riferimento, ma questo è da tutti, ma viene raccontato anche molto bene in questa straordinaria avventura paleontologica. Ecco, è giusto dire, io non conoscevo questi due straordinari personaggi, questi due scienziati, come credo la maggior parte di tutti noi, quindi grazie a Gabriele Ferrari che ce li fa conoscere. Ma in un minuto questo, chi erano queste due figure? Erano entrambi paleontologi, avevano una decina d'anni di differenza, un Marshall più vecchio cooperato giovane, e erano nati entrambi sui costi degli uniti a familii migliorati inglesi che un paio di ricoli prima avevano visto tutta questa terra promessa. In direzioni diverse erano diventati tutti abbastanza ricchi da poter sostenere questa situazione che era una scienza, ma era anche una cosa bruttosa con un'inizio della caccia, una cosa costosa, differente all'andamento tra i due era che ma è che aveva fatto lungo. Gabriele Ferrari, siamo impossibilitati ad ascoltare, perché la voce va e viene, anzi direi che va e non si sente, vediamo se una volta si diceva parli bene dentro i buchi della cornetta, oggi non è più possibile dire questa cosa, perché le cornette credo non esistano più, mi sente bene? Io sento benissimo. Benissimo, adesso riprendiamo di nuovo, stava dicendo di questi due straordinari personaggi, Cope e Marsh. Sì, adesso mi sono perso, non ho capito, devo inciercare da capo. Sì, allora, la domanda era, chi erano queste due figure, Cope e Marsh, queste due figure che animano così fortemente questa avventura del libro, ma animano fortemente anche l'avventura della scienza e della ricerca paleontologica? Beh, in ambito paleontologico, di gente che aveva studiato per specializzarsi, che avevano scoperto in amica una grande quantità di una tale ricchezza e anche fatta per la vita del passato, decidere di dedicare la loro vita intera a ricordare quella che gli sta chiuditi prima che ci arrivassimo noi. Erano entrambi molto ricchi di famiglia, per motivi diversi, che è una cosa molto importante per spiegare come abbiano potuto portare avanti questa loro passione per 50 anni, sostanzialmente. La nascita del capitalismo americano e di un'economia molto radicata, che faceva muovere molti soldi, è uno dei temi del libro ed è uno dei motivi per cui questi due sono riusciti a fare quello che hanno potuto fare. La vera differenza tra i due era che uno, Marsh, era un accademico di formazione che aveva fatto un lungo percorso di istruzione fino a laurearsi e farsi dare una carta in paleontologia, Coop era invece il bambino prodigio che aveva salvato le tappe, non aveva nessun titolo di studi, ma era talmente bravo a fare quello che faceva che già a 25 anni pubblicava su importanti riviste scientifiche e organizzava spedizioni. Questa forse è la frizione fondamentale tra i due, cioè uno vedeva l'altro come una rivista e l'altro ovviamente ha reagito di conseguenza. E perché poi questa storia? Torno su questo aspetto che non è secondario rispetto alla scienza straordinariamente raccontata e che poi questa è la storia di un'amicizia che parte da uno straordinario rispetto di uno dell'altro e poi qualcosa si rovina. Ammesso chi se lo viene? Perché questa è una rivalità, se avventura deve essere, rivalità ci sia, per così dire. E un senso anche di conquista personale rispetto all'altro per andare, come diceva poco fa, uno solo di fronte al pubblico e sotto le luci del palcoscenico. Queste due persone che si incontrano, per così dire, negli studi di ricerca scientifica, ma adesso andiamo a collocarli, andiamo a collocarli nel loro lavoro, nel loro lavoro in America, esattamente dove, Gabriele Ferrari? Allora, Coop ha passato sostanzialmente tutta la sua vita a Filadelfia o intorno a Filadelfia, nel senso che lui a un certo punto si è trasferito in New Jersey perché c'erano dei campi fossiliferi relativamente ricchi e quindi li voleva, insomma, a portata di mano, ma di fatto afferiva sempre a Filadelfia, alla National Academy of Sciences, all'Università Locale, al Museo, soprattutto Coop era un topo da museo che frequentava tutti i musei della costa est, non conosceva benissimo le collezioni, però fondamentalmente lui e la sua famiglia era una famiglia quacchera con almeno due secoli di tradizione in Pennsylvania e lui non si è mai spostato granché da Filadelfia. Marshall, invece, dall'altra parte, che nacque nello stato di New York, passò tutta la sua vita a Yale perché il suo facoltoso zio, noto filantropo e tra le altre cose fondatore dell'agenzia di consulenza precursore della GJP Morgan attuale, lo zio aveva sostanzialmente comprato una posizione a Yale con la promessa di una grossa donazione all'università e soprattutto con la promessa dell'apertura di un museo. In America, al tempo, non c'erano ancora tanti musei naturalistici, ce n'erano due o tre che si facevano concorrenta, avere un museo nuovo era proprio il modo perfetto per annunciare il proprio arrivo sulla scena. Per cui Marshall di fatto si appoggiò a Yale per tutta la vita, lui fu anche il primo a ottenere una cattedra di paleontologia negli Stati Uniti, cioè la cattedra di paleontologia dell'università fondamentata per lui, che in tutta la sua carriera, peraltro, da docente non tenne mai neanche una lezione. Questo per dire quanta libertà potevano avere di fare, insomma, di perseguire i loro scopi avventurosi, ignorando poi anche gli obblighi del mestiere. Ma qui andiamo a conoscere anche altri personaggi in questa avventura intitolata Polvere e ossa pubblicata da codice. Perché a un certo punto Edward Cope, lo chiamo così per fare più veloce, insieme con il suo collega rivale Marsh scoprono una presenza importante, quindi bisogna ricostruire. La paleontologia è una scienza della ricostruzione, in sostanza. E qui scopriamo, per esempio, l'Elasmosaurus. Ora, anche qui, o sei esperto di paleontologia, oppure non è che tutti quanti conosciamo, Gabriele Ferrari, chi era l'Elasmosaurus, vero? No, certo. Oddio, è una di quelle bestie preistoriche che spesso, come dire, nell'immaginario vengono associati ai dinosauri, pur non essendo, dal punto di vista scientifico, un dinosauro vero e proprio. E quindi probabilmente, magari, non lo so, anche in un film o in un cartone animato, in un qualcosa a tema preistoria, lo si è visto l'Elasmosauro, che era questo grosso lucertolone marino con il corpo tozzo, il collo molto lungo e una codina corta e tutta ritorta. E questa descrizione è molto importante, perché è l'inizio vero della guerra, nel senso che, dicevamo prima, che questo rapporto, il rapporto tra Marce e Copp, iniziò effettivamente come un'amicizia e, come dire, con rispetto reciproco. I due si scambiavano lettere per anni, addirittura si dedicavano, dicendevolmente, due specie nuove scoperte. Marce ne dedicò una a Copp e viceversa. Per cui, insomma, all'inizio sembrava che la loro potesse essere la più classica delle rivalità sane. Cioè, abbiamo lo stesso scopo, vediamo chi è più bravo, ma poi a fine serata ci incontriamo e ci diamo delle grandi pacche sulle spalle per capirci. La questione dell'Elasmosauro è quella che fa... cioè, ogni guerra ha bisogno di un episodio scatenante. E, come diceva lei, effettivamente la parantologia è una scienza di ricostruzione, è una scienza in cui tu hai poche ossa, pochi pezzi di questo animale e tramite confronto con animali simili o confronto con discendenti antenati, insomma, con anche una certa quantità di tiro a indovinare per logica e vediamo se funziona, devi ricostruire un intero animale, che non è assolutamente facile. Se l'animale è piccolo, magari è più semplice. Le bestie con cui lavoravano Copp e Marce, quindi dinosauri e altri grossi rettili del mesozoico, non erano così facili da ricostruire, tanto che fino al 1860 circa in tutti gli Stati Uniti c'era un solo scheletro di dinosauro intero ricostruito. E questo ovviamente nel giorno in cui Copp riceve una cassa di ossa di un tizio che gli disse le ho trovate nel campo dietro casa. Che cosa ne faccio? Lui le riconobbe, come quelle appunto dell'Elasmosauro di cui stiamo parlando, riuscì a procurarsi tutti i resti, tutte le ossa che potè da quello scavo e lavorò con questi resti per ricostruire l'Elasmosauro e creare il suo primo grande capolavoro. Sarebbe stato un altro grosso rettile preistorico esposto al museo, il secondo negli Stati Uniti. Lui sarebbe stato esposto tra l'altro di fianco a un dinosauro ricostruito dal suo mentore, Joseph Lady, anche lui grande paleontologo americano di quegli anni. Lui fece, dedicò un anno della sua vita a questa ricostruzione, riuscì infine a esporre l'Elasmosauro, il Preciosauro e scrisse all'ancora amico Marsh, molto fiero, mandandolo addirittura allo studio che poi avrebbe pubblicato, dicendo di vieni a vedere che lavoro incredibile che ho fatto. Marsh arrivò al museo di Filadelfia, guardò questo animale spettacolare e si rese conto però che Coppa aveva fatto un errore clamoroso, cioè aveva piazzato la testa di questo animale in fondo alla colla invece che in fondo al collo. Ci sono due modi per comportarsi dopo che hai scoperto un errore così, o stai zitto e aspetti che la folla se ne vada e privatamente comunichi al tuo amico che ha fatto un errore, oppure davanti a tutto il pubblico del museo, punti il dito verso la testa dalla parte sbagliata e dici ha fatto un errore. E qui ci fermiamo perché lo facciamo scoprire ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, del possiamo dirlo romanzo, perché questo è uno straordinario romanzo di avventura, polvere e ossa, il libro di Gabriele Ferrari, perché è veramente una storia straordinaria, ma qual è stata la prima volta che Gabriele Ferrari si è imbattuto in questi due scienziati? Io avendo studiato paleontologia conoscevo i loro nomi perché loro poi in quanto tali non sono granché notti al grande pubblico, ma hanno descritto alcuni dei dinosauri classici proprio da immaginario dei dinosauri, non so il triceratto, con le sue tre corna e la cresta intorno al tavolo, lo stegosauro, cioè alcuni dei famosissimi dinosauri. Lo stegosauro è quello con le piastre triangolari sulla schiena, tanto per far capire ai nostri ascoltatori, straordinaria figura animalesca, però abbiamo aperto questa conversazione a Gabriele Ferrari parlando del nesso tra la paleontologia e il cinema, almeno per quanto riguarda Gabriele Ferrari, però dopo questo libro sarebbe possibile scrivere un bel copione cinematografico raccontando la storia di questi due scienziati? Se io fossi capace lo farei, purtroppo le mie esperienze di scrittura televisiva e cinematografica si limitano a cose brevi tipo puntate di serie tv, non sono mai arrivato sulla lunga distanza, però a parte questo sì, è sicuramente una storia molto romanzabile o drammatizzabile, io stesso ho diviso il libro in tre atti come si fanno, come si fanno la teatro, o a teatro sì, io sono più ignorante e penso subito ai film, però insomma anche con la stessa cadenza e distribuzione degli eventi, è una storia talmente già drammaturgicamente perfetta, io man mano che la ricercavo e poi cominciavo a scrivere, ogni tanto mi costringevo a fermarmi e dire ma è andato veramente così, sembra che sia fatto apposta, cioè ci sono dei passaggi, dei momenti che sembrano veramente scritti già da uno sceneggiatore. Non sembra vita vera storia della scienza, secondo me è l'aspetto più affascinante di tutta questa vicenda. Sarebbe veramente una grande esperienza vedere la storia in versione cinematografica di questi due paleontologi, Edward Drinker-Cope e Othniel Charles Marsh, due paleontologi a caccia di dinosauri nel Far West. Polvere e ossa è il libro che abbiamo raccontato insieme con Gabriele Ferrari, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? A me? Certo. Io sto leggendo il romanzo scritto da un amico che ha scritto una storia romanzata a partire da un gioco di ruolo italiano che si chiama Brancalonia, del quale sono felice tra l'altro di fare pubblicità perché sto cominciando anch'io a lavorare con loro. è un sistema di gioco di ruolo basato sul folclore italiano, esclusivamente sul folclore italiano, per cui se siete incuriositi da questa cosa andate a darci un'occhiata. E il libro si chiama? Si intitola? Il libro si chiama La Compagnia della Sola. La Compagnia della Sola, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori ed è veramente molto originale di fare questa scelta di lettura, Gabriele Ferrari. Posso dire che sono onnivoro. Certamente, questo è il bello delle cose e in particolar modo della lettura, perché altrimenti sarebbe una cosa persino annoiante sempre leggere. No, poi vengo anche da un anno e mezzo o due di letture solo di saggi sul vecchio West americano, quindi ogni tanto serve anche staccare il cervello. Simone Laudiero, autore di Brancalonia, La Compagnia della Sola, il libro ricordo è pubblicato da Mondadori. Intanto grazie Gabriele Ferrari e buona giornata. Grazie a voi.